ciao buongiorno a tutte bentornate sul canale come promesso ecco il primo video spacchettamento di campagna 17 l'ho preso ieri pomeriggio in posta e era un paccone da 10 chili perché adesso diciamo utilizzano questa tecnica di mettere due scatoloni quelli classici di questi diciamo di questo formato in uno scatolone più grande quindi era uno scatolone alto e pesava appunto 10 chili mentre prima non era possibile ricevere in posta pacchi di troppo pesanti il sistema insomma non praticamente non ti faceva scegliere quell'opzione invece lo trovo molto comodo perché ho fatto l'ordine lunedì mattina e ieri pomeriggio che era mercoledì era già arrivato praticamente quindi è piccolino sono praticamente quasi tutte cose mie e non ci sono tantissime novità perché so già che in campagna 18 farò il botto quindi preparatevi perché comprerò il mondo in anteprima quindi ve l'ho già detto è quasi una minaccia allora ovviamente c'era la fattura l'outlet di campagna 1 sempre solo per le presentatrici due cataloghi casa primavera perché per le plati non sono previsti se non sbaglio due sono questi qua poi casomai vi faccio un piccolo video solo sul catalogo casa e vi faccio vedere già e vi dico già quello che prenderò almeno lo sapete già l'avul per te eccolo qua che è poi praticamente dedicato al lancio del rossetto prisma che avverà appunto in campagna 18 e il catalogo di campagna 1 eccolo qua con maddalena corvaglia che ci presenta il tta celebrate diciamo è l'anniversario dei quindici anni di tta ovvero today tomorrow always e è stato lanciato questo profumo nuovo per l'occasione avendo io preso 15 cataloghi più i sei che arrivano perché sono platino mi hanno mandato campioncini del nuovo rosetto prisma e più comunque mandavano qualche campioncino anche loro non mi ricordo se 23 questo non sono sicura quindi ho questi tutti questi campioncini non sono tutti i colori anzi alcuni sono ripetuti molti futuristic dreams e poi abbiamo un energy flash ce ne sono insomma tipo l'energy flash ce ne sono tre e lo stesso futuristic dreams e lo stesso hyper fusion ce ne sono se non sbaglio tre ma poi c'è un cosmic boom ah un sonic boom sempre questi un po' più scuri poi abbiamo due stellar glow che sono questi qui sul violetto e poi abbiamo un niente questi sono sempre quelli che dicevamo prima quindi 23 per tipo insomma poi vi faccio vedere quello che mi hanno ordinato mi hanno ordinato due spectra l'asce le sono in offerta questi della marca questi con la rotellina 4 99 ne ho due ma uno l'ho già consegnato ieri sera quindi ho solo questo poi mi hanno preso questo accessorio per l'eyeliner io ancora non ho ben capito come funzioni però poi abbiamo un matt della vontroo quelli delicati abbiamo un cherry delight e move whisper che sono questi qui poi qui abbiamo praticamente fatemi capire il resto sono tutte cose mie ah no e poi abbiamo preso questo il bubble bath soft pink e il resto sono cose mie allora ho preso il bottiglione di shampoo perché l'ho quasi terminato l'altro e quindi ho preso questo da 700 ml all'olio di argan che sta a 550 quindi mi sembra un'offerta molto interessante dal 16 mi sono presa perché erano in offerta i due intimi ho preso questo aloe vera e cotton breeze a 5 99 2 perché avevo finito la scorta quindi queste li rimetto lì nella scorta ho poi preso sempre non ricordo se dal 17 o dal 16 la maschera questa qui almond mandorla e avocado che come vi ho detto ormai utilizzo queste come balsamo queste da 200 ml poi ho preso della diciamo linea questa nuova e incanto l'olio da bagno questo sembra quasi perlescente lo stavo agitando sì praticamente questo come è un olio però sicuramente anche scintillante perché sì sembra perlescente quindi questo in tutti e due sono olio da bagno e olio da massaggio poi ho preso tre matite per labbra che era in offerta mi sembra 9 99 tre matite le ho prese perché mi sono resa conto che a parte che vabbè non uso matita per labbra perché alla fine ne ho una sola dell'astra presa mille anni fa all'outlet di non ricordo se va al montone non ricordo se no forse sono arte quindi figuratevi una vita fa e quindi non ho mangiato per labbra e ho preso questi tre colori qua il true red questo il questo il blushing move questo qua e questo un nude quindi mi sembra che su per giù sono i colori che utilizzo insomma più spesso quindi mi sembravano quelle più indicate che sono poi così che sono poi così questa è il nude true red che è questa e questa e questa è blushing aiuto eccole qua tutte e tre poi ho preso per le novità il rossetto nude suede della linea matt che avranno il pack rinnovato che è fantastico che questo qua eccolo qua bellissimo quindi questo è il rossetto ecco qua questo come vi ho detto è nude suede molto molto carino per le anteprime abbiamo il sensis peonia e magnolia crema doccia crema questo da 250 c'era anche da 500 ml è molto delicato molto primaverile poi ho preso il la consensis per le mani giardino dell'eden frutti esotici e basilico vediamolo eh devo durare buono questi fruttati così sono i miei preferiti poi poi a me che piace sempre provare cose nuove come posso io poi resistere ogni volta che c'è una cosa nuova la devo prendere quindi c'è poco da fare poi vi faccio vedere questa maschera per i piedi della footworks quindi sono dei sacchettini una maschera esfoliante da tenere 60 minuti con acido glicolico e aloe vera quindi non vedo l'ora di utilizzarla praticamente qui dice esfoliante lisciante e ammorbidente e quindi l'efficacia di un trattamento di un peeling da salone di bellezza a casa tua un trattamento professionale per avere piedi morbidi come un bambino vi dirò e poi ho preso gli orecchini anche questi sono in anteprima e saranno sul catalogo 1 e sono questi qua me li immaginavo un po' più grandini eh devo essere sincera però sono molto carini mi fanno tanto anni 80 guardate che carini troppo carini li troverete qui sul catalogo e vi dico anche il prezzo se non sbaglio a 6 euro e 50 sul catalogo 1 ecco qui gli orecchini molto carini allora questo piccolo video spacchettamento è terminato spero che vi siano piaciute queste cose insomma se avete curiosità come sempre chiedete nei commenti sono ben lieta di rispondervi e vi ringrazio anche per le parole carine per il piccolo Matteo che oggi è tornato a scuola perché insomma siamo decisamente meglio e finalmente è tornato a scuola e niente questo comunque sia secondo me è veramente molto molto carino di solito non faccio video sui cataloghi però me l'avete chiesto quindi farò un video sul catalogo di campagna 1 perché ci sono un sacco di cose interessanti che io andrò a prendere poi con l'ordine di campagna 18 in anteprima e farò anche un video sul catalogo casa edizione primavera un saluto a tutte e vi ricordo che se non siete iscritte iscrivetevi al canale se vi va lasciate un like e quindi niente vi auguro un fantastico proseguo della settimana ciao